Il termostat è uno dei componenti dell'unità di fusione. È abbastanza comune per farlo. Il termostat è un scelto termale che evitava il fusione di evitare, scendendo il potere. Puoi testare il termostat usando un multimetro normale. Puoi testare il livello più alto. Cercando i due livelli di cura che vengono all'interno del termostat. Molto non è necessario eliminarlo dalla unità di fusione. Se il termostat funziona, dovresti avere una scelta di 0 o più vicino a 0. Questo termostat funziona. A volte il termostat funziona, ma è 30, quindi hai un errore. Cercate di pulirlo. Ci dovrebbe avere un tonter buildup sulla superficie.